Poi Sanzone e Scott. Vediamo se questo segnale sarà convalidato. Questa volta sembrerebbe buono il lancio. Sbaglia nel tentativo di fare le cose in fretta poker model. Ha sbagliato anche Passione Car. Davanti c'è Point Lovek Camp, seguito da Superfast del Colle. Allargo Sannitz, poi Rio Bargal. Tante le rotture. Pietro il Grande, poi è rimasto molto attardato anche Ringo Jor SM. Intanto vediamo i primi 400 metri. 34. Point Lovek davanti a Superfast, poi Rio Bargal, Sannitz. Allargo risale poker model rimesso. Intanto il passaggio ai primi 600 metri in 45,6. Guardi che completano ora anche la seconda curva con poker model che si proietta su Point Lovek Camp. Point Lovek lo controlla. Incorda Superfast, poi Rio Bargal. Ancora Sannitz. Painkiller va all'esterno Sanzone. Chiude il drappello Ringo Jor SM. 1,1 gli 800. Adesso il passaggio al primo chilometro con poker model che è sfilato al comando. 1,17 scarso per i mille iniziali. poker al comando di rincalzo Point Lovek. All'esterno Sanzone si porta presso Rio Bargal. Allo steccato Superfast del Colle. In secondo chilometro inizia con un paletto comodo in 16,5. La retta opposta alle tribune. Poker e Sanzone alle prese. Point Lovek e Rio Bargal in coppia alle spalle dei primi due. Mancano 600 metri al termine con poker model e Sanzone alle prese. Poi Point Lovek e Rio Bargal. Superfast che non ha spazio. Ancora Sannitz. All'esterno Ringo Jor che prova ad avanzare. 14,2 l'ultima frazione. Ora un paletto in 14,3. Poker model ribatte colpo su colpo a Sanzone Skoi. In corda c'è Point Lovek all'argo Rio Bargal che si affaccia in terza all'ingresso della retta di arrivo. Poker model al comando. Lo scatto di Rio Bargal. Poker in vantaggio. Rio Bargal che chiude bene. Poi Superfast del Colle. Rio Bargal Superfast all'attacco. Sanzone ancora all'interno. Grande lotta nel finale. Le battute conclusive con Superfast che passa e vince su Point Lovek e Rio Bargal. Superfast del Colle. Oggi è venuta bene. Oggi non ha dovuto costruire all'esterno. Acquattato lì. Terzo in corda con Mario Minopoli Junior. Trova il varco al momento giusto. Finisce molto bene. Va a vincere. Fa netto, netto e sicuro. 2,31,6 il totale. Superfast del Colle che sbuca dalla corda all'ingresso in retta. E piazza speed più fresco per andare a vincere. Mentre all'interno di Rio Bargal filtra Point Lovek Kampf. I due allievi di Domenico Luongo alle migliori piazze. Con Point Lovek prevalente su Rio. Ma al primo posto c'è Superfast del Colle con Mario Minopoli Junior. Per i colori del signor Nicola Comunale. La combinazione Tris. 8, 2, 1. La combinazione Tris.